Ciao ragazzi, allora il video di oggi purtroppo non è il video che avrei voluto fare, non è il video che avevo in programma di fare perché ultimamente, qualcuno lo sa perché me l'ha chiesto qui nei commenti o su Instagram, sto cercando di pubblicarvi due video a settimana sempre più o meno negli stessi giorni, il lunedì e il venerdì, non li ho ancora diciamo ufficializzati come giorni di pubblicazione perché sto avendo un sacco di cose con il lavoro, sto avendo un sacco di novità, un sacco di cambiamenti e quindi non so ancora se per certo riuscirò a portarvi dei video il lunedì e il venerdì, ma comunque ce la sto mettendo tutta per appunto darvi in questi giorni più o meno intorno alle 14.30-15 ogni volta un video. Oggi sarebbe dovuto essere diciamo il giorno, secondo la mia programmazione, chiamiamola così il giorno del video dove avevo deciso di parlarvi di tutte le novità, di tutte le nuove uscite che ci saranno da qui a Natale di bambole, quindi avrei parlato di Lolo OMG, avrei parlato delle nuove Barbie perché ci sono delle nuove Barbie che sono in uscita, vi avrei parlato di tutte le linee soprattutto OMG, delle nuove Rainbow High, avrei fatto un video con un montaggio un pochino più complesso del solito con un sacco di foto e avrei voluto anche già registrarvi la horror review che vi ho praticamente promesso nello scorso video acquisti per poi pubblicarvela lunedì. Invece purtroppo settimana scorsa, come avete visto nello scorso video, mi sono fatto male a una mano. Dopo una settimana dove il gonfiore si è un po' fievolito, era quasi sparito, il livido stava quasi andando via, ho notato che c'era ancora qualcosa che non andava e ho deciso di andare in ospedale a farmi un controllo. Questa mattina sono andato e questo è il risultato. Mi hanno steccato completamente questa parte della mano, quindi diciamo che la mia mano destra è per almeno una decina di giorni inutilizzabile e quindi purtroppo questi video che avrebbero richiesto da una parte per il video delle nuove uscite, comunque un montaggio un pochino più difficile che poi non parliamo di montaggi da Hollywood ovviamente, ma comunque un lavoro più lungo, si parla di ore di lavoro al computer con la mano destra perché io la sinistra faccio veramente fatica ad usarla, sembro un rincoglionito quando uso la sinistra. E invece l'altro video, la horror review, ovviamente necessita di uno stato d'animo abbastanza, non dico spensierato e leggero, però io quando le registro devo essere nel mood giusto per poter sparare un po' di minchiate, per poter ridere, per poter fare un po' lo scemo, per poter giocare con Tiffany, cose entrambe che purtroppo adesso con questa cosa non posso fare. Non posso fare perché ovviamente prima di tutto per il discorso editing mi è veramente difficile, perché se prima un video tipo una classifica ci mettevo un tre ore a montarlo all'incirca, facciamo anche tre ore e mezza, adesso dovrei farlo con la mano sinistra e penso che se iniziassi stasera finirei per Natale di editare il video e quindi purtroppo slitta, come anche la horror review, perché non mi pare intanto carino fare una recensione dove indico le cose con questa roba in mano, ma soprattutto non sono dell'umore particolarmente adeguato. E quindi vi sto facendo questo video semplicemente per spiegarvi un pochino cosa è successo, per dirvi che probabilmente nei prossimi giorni, fino a quando non riprenderò diciamo la mia mano, sicuramente vi farò video perché come sto facendo quello di oggi, io ho bisogno di fare video, perché ho bisogno di parlare con voi, ho bisogno di avere un contatto diretto con voi, ed è vero che il contatto più diretto probabilmente sono i messaggi su Instagram e queste cose, ma il fatto di parlarvi direttamente a voce è tutta un'altra cosa. Mi risulta veramente un contatto più diretto a livello mio personale. E quindi insomma volevo dirvi questo, probabilmente questo video sarà un video campato un po' per aria, ma chi se ne frega, infatti non mi sono neanche truccato perché ovviamente truccarmi con la sinistra avrei fatto un disastro. Non ho fatto niente, mi sono messo un cappellino per coprire i capelli di merda che ho oggi, mi sono messo un paio di occhiali giusto per nascondere un pochino la mia faccia e sono qua a parlare con voi. Adesso sicuramente, visto che domani sera uscirò per il mio compleanno, che è stato qualche settimana fa domani sera, che per voi sarà stasera, comunque venerdì sera, quindi sì per voi questa sera io uscirò per il mio compleanno, quindi probabilmente riceverò dei regali e quindi sicuramente vi farò un video con i regali di compleanno, che ovviamente quello lo posso fare, sto un po' attento a usare questa mano, ma come vedete comunque queste dita me le hanno lasciate libere apposta da poterla utilizzare e quindi di sicuro il video dei regali arriverà credo già settimana prossima, se non già lunedì, visto che non avrei altre cose da fare potrei farvi quello e quindi sicuramente farò altri video. Però ecco la programmazione diciamo seria, un pochino salta perché per certi video, anche solo a volte per una semplice recensione, ci vuole realmente il mood adeguato, la voglia di farla e proprio nell'ultimo periodo mi è capitato di vedere alcuni canali qui su YouTube che hanno questo problema, secondo me fare dei video giusto per farli, perché si deve farli un po' per la monetizzazione, un po' perché ci si sente in dovere nei confronti dei propri iscritti, secondo me porta poi il video a snaturarsi, porta voi a percepire questo clima di falsità. Io purtroppo queste cose non riesco a farle, purtroppo se non posso essere sincero piuttosto lascio stare, non perché io debba essere il paladino della sincerità, ma per il semplice fatto che non fa parte di me e quindi mettermi a fare determinati tipi di video adesso veramente non ci riuscirei. Quindi ragazzi sotto questo aspetto portate pazienza, scusatemi soprattutto perché questo è stato un po' colpa mia, ma adesso vi spiego cosa è successo, ma appunto vedrete per i prossimi giorni dei video probabilmente un pochino più semplici del solito, un pochino più sottotono magari anche del solito, anche se avrei voluto fare completamente altre cose. Ho in mente veramente un sacco di cose, mi sono scritto un elenco infinito di video da farvi anche per migliorare un pochino i video, per iniziare a fare cose nuove, ma adesso evidentemente il destino voleva che mi fermassi un attimo. Chiudendo tutta questa pappardella infinita che avrà annoiato tipo la maggior parte di voi che avranno ovviamente già chiuso il video, per quelli che sono rimasti e probabilmente sono interessati anche a sapere cosa mi sono fatto, per farvela molto breve mi sono fatto male da solo. Detta così sembra dell'autolesionismo, non è autolesionismo. Purtroppo ci sono dei momenti nella vita in cui lo stress che si accumula, il nervosismo che si accumula, le... come si può dire? I problemi, i pensieri portano una persona, in questo caso ovviamente me perché si sta parlando di me, ad arrivare a un punto in cui lo stress è talmente forte che si inizia a far fatica veramente a gestirlo. Il nervosismo, i problemi... io ho un brutto difetto, tendo sempre a sorridere, a mandare giù, io dico mandare giù, a ingoiare i problemi facendo finta che non esistano o comunque cercare di risolverli e poi cercare di levarmi di dosso lo stress e il nervosismo, cerco comunque sempre di andare avanti, quando invece tante volte dovrei sfogarmi subito o comunque dare un vaffanculo in più, mandare a cagare un po' più di gente, tirare un po' più fuori le palle forse, invece di cercare di essere sempre diciamo accondiscendente, di far contenti tutti, di far andare bene sempre tutto. Facendo così purtroppo molte persone, tra cui appunto io, arrivano ad un punto in cui esplodono. A me è capitato settimana scorsa, ero appena tornato dal mare, al mare mi sono divertito tantissimo, come vi ho già detto ho comunque preso mille botte, mi sono fatto un po' male, ho avuto anche, devo ammettere, qualche pensiero per il lavoro, quindi devo dire che sono tornato a casa dal mare felice ma non rilassato. In vacanza non mi sono rilassato per niente, mi sono divertito, mi è piaciuto, mi sono svagato, che sono tutte cose che con il rilassamento non c'entrano assolutamente niente. Di conseguenza io sono tornato il martedì, il mercoledì ho avuto una piccola discussione che è sfociata in un piccolo litigio, quindi niente di eclatante, che diciamo mi ha fatto sbroccare. È stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e è partito un pugno. Il problema è che il pugno è partito contro il muro e come ha detto oggi il radiologo in ospedale, il muro era più duro della mia mano. E quindi purtroppo questo pugno che ho dato per sfogarmi, per scaricare probabilmente la tensione accumulata in mesi, ma mesi e mesi, di problemi perché poi abbiamo passato tutti un lockdown, abbiamo passato tutti questa pandemia, io sto lavorando comunque in un modo abbastanza faticoso, sempre con l'ansia di questo virus, ho passato due mesi in casa da solo che per molti sono stati belli, per molti altri sono stati pesanti. Io li ho vissuti malissimo, sono stato veramente malissimo in quel periodo perché ero isolato dal mondo, ero io con la mia gatta e tuttora, devo ammettere, oggi mi denudo un pochino dalla mia maschera di privacy e vi racconto un po' di più. Mi sto portando ancora avanti dei disagi che purtroppo questa clausura forzata, chiamiamola così, mi ha provocato. Io tuttora ho delle ansie che prima non avevo, ho sempre sofferto d'ansia, vi dico la verità, ho sempre avuto questo problema di soffrire d'ansia, ma forse a qualcuno l'ha anche detto, forse in qualche scorso video l'ho detto, io quando dico che sono in ansia non lo dico come si usa a dire perché va di moda, lo dico perché ce l'ho veramente. È una cosa brutta, è una brutta bestia, non è di sicuro grave come una depressione, non è di sicuro grave come tantissime altre cose, ma è una cosa con cui purtroppo bisogna imparare a conviverci. E quando capitano cose come il lockdown di mesi, per una persona già ansiosa trovarsi da sola reclusa in casa, io in due mesi sono uscito forse quattro volte a fare la spesa da solo e oltretutto avendo quasi il terrore di star fuori di casa, quindi non vedevo l'ora di tornare a casa quando mi trovavo dentro il supermercato, non è stato per niente semplice. E poi il fatto di riprendere le normali attività lavorative, di riprendere la normale vita di sempre, è stato ancora più difficile perché mi sono trovato a essere risbattuto in un mondo che ormai quasi non mi apparteneva più, non so come spiegarmi. Pieno di difficoltà, pieno di paletti, pieno di paure, pieno di terrorismi a volte anche inutili, provocati dai media, provocati da tutto e quindi anche questo ha contribuito tanto. Poi ovviamente c'è stata tutta la pressione lavorativa, tutti i lavori che in quel periodo non sono stati fatti, sono slittati ovviamente poi alla riapertura e hanno tutti cominciato a pretendere un sacco e sempre sempre di più perché dovevano recuperare le uscite, perché dovevano recuperare un sacco di lavori che appunto non si erano fatti e quindi io mi sono trovato dal non fare niente per due mesi al fare troppo subito con le mie ansie non potendola gestire perché il tempo per gestirla non c'era. Dopo sono successe un sacco di cose in mezzo, ci sono successe un sacco di cose che poi capitano nella vita di tutti come la gestione del lavoro, la gestione degli impegni, la gestione di youtube, la gestione di un sacco di cose che mi hanno portato ad avere probabilmente un livello di stress tale da farmi sbroccare in questo modo. Fortunatamente mi sono fatto solo una piccola frattura, ho rischiato, me l'hanno detto questa mattina di dovermi operare perché se non fosse andato diciamo in tempo tra virgolette in ospedale e mi si fosse scomposta la frattura avrebbero dovuto operarmi e sarebbe stato molto peggio. Fortunatamente adesso in poco più di dieci giorni dovrei cavarmela e poter tornare al lavoro. Sapete benissimo che avrei potuto dirvi che mi sono schiacciato la mano in una porta, avrei potuto dirvi qualsiasi cosa, avrei potuto raccontarvi una qualsiasi palla per fare la figura di quello che non ha fatto una cazzata ma purtroppo ragazzi le cazzate le facciamo tutti, le fate voi, le faccio io. Questa è stata una cazzata che ho fatto io che da una parte è una cazzata, dall'altra purtroppo sono arrivato appunto come vi dicevo a un limite tale in cui sono sbroccato. Adesso ovviamente ho imparato la lezione e credo proprio non succederà più perché le mani mi servono per lavorare e questi gesti non servono assolutamente a nulla. Si può benissimo imparare a sfogare le tensioni e lo stress in un modo completamente diverso però è andata così. Ho voluto comunque dirvi la verità, ho voluto essere sincero e niente penso che questo sia più o meno tutto. Mi dispiace tantissimo perché avevo un'idea bellissima del video per oggi che spero di poter comunque fare prossimamente. Se gli impegni e le problematiche non diventeranno tali da impedirmelo nuovamente lo realizzerò ma per adesso purtroppo portate pazienza i video saranno un pochino più semplici ma di sicuro non vi abbandono. Sono qua, ho bisogno di voi, ho bisogno del vostro sostegno, ho bisogno di questi cazzo di video che faccio due volte a settimana. Mi fanno stare bene anche solo aver parlato un pochino con voi oggi mi ha un po' alleggerito perché comunque aver passato queste ore in ospedale questa mattina lo sapete per fortuna non è niente di super grave, si risolve e quindi non è un problema però sono cose che comunque arrivi a sera che non è stata propriamente una bellissima giornata. Ecco, poteva essere molto meglio e aver parlato un po' con voi devo dirvi che mi ha un po' alleggerito. Quindi adesso direi che in qualche modo vado a lavarmi anche se sarà un po' difficile. Già ho dovuto imparare a usare la carta igienica con la sinistra e vi assicuro che non è facile per chi non è mancino. Ho provato a fare dei sudoku e delle parole crociate con la sinistra e scrivo come un bambino di quattro anni. Adesso dovrò riuscire a imparare a lavarmi anche tipo l'ascella di qua con la mano storta che già in questi giorni ho fatto un po' di fatica ma sono sicuro che ce la farò. Quindi ragazzi spero di non avervi annoiato mi sono un pochino aperto più del solito con voi mi andava di farlo e l'ho fatto sapete che non sono uno che tende a mettere in piazza la sua vita privata o le sue cose personali ma quando arriva il momento di farlo lo faccio perché mi sento di farlo. Spero che possiate apprezzarlo. Io come sempre vi saluto e vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video in cui spero di essere un pochino più su di morale confronto ad oggi. Neanche questo so fare con la sinistra. Oddio. No così non viene fa proprio schifo.